Villa San Benedetto Menia dal bese con Cassano diventa appunto tamponi. Da oggi, mercoledì 2 febbraio, sarà possibile prenotare il test chiamando il numero dedicato e disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana 031 42 91667. L'elevata difficoltà nel trovare un appuntamento per effettuare un tampone antigenico molecolare e la necessità per i cittadini di ricevere questo servizio, si legge nella nota inviata dall'ufficio stampa della Residenza per Anziani, ha spinto la direzione della casa albesina delle suore ospedaliere a organizzarsi affinché la cittadinanza possa avere una nuova struttura a cui fare riferimento. Dalle 14.30 alle 17, da lunedì al sabato verranno effettuati tamponi antigenici e negli stessi orari, da lunedì al giovedì, quelli molecolari. Si ricorda inoltre che è indispensabile presentarsi muniti di carta d'identità e tesserino sanitario. La struttura inoltre mette a disposizione un servizio drive-in dedicato alle persone con disabilità, mentre per gli altri utenti è previsto un ingresso pedonale. Infine, per coloro che sono invece interessati ad effettuare test sierologici, possono mettersi in contatto direttamente con l'accettazione, chiamando il numero 031 4291 535, da lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.00.